In quest'ultima unità didattica dedicata al problema della rappresentazione della conoscenza vediamo più nel dettaglio i formalismi che sono stati utilizzati per effettuare appunto questa rappresentazione che sono sostanzialmente le reti semantiche che costituiscono un aiuto grafico per la visualizzazione della bassa conoscenza quindi in qualche maniera è un formalismo che ha un elevatissimo grado di intuitività per noi esseri umani i frames che sono stati proposti da Mischi nel 75 e le logiche descrittive le logiche descrittive sono un'evoluzione delle reti semantiche molto piuttosto recenti che hanno in qualche maniera focalizzato il problema di decidere e quindi di fare inferenza sulle relazioni di sussunzione fra categorie e quindi limitandosi a quello al capire se una categoria è sussunta da un'altra e se un oggetto appartiene o no a una categoria se queste sono le inferenze che vogliamo fare le logiche descrittive sono un modo estremamente efficiente per rappresentare la conoscenza perché ci consentono di fare quell'inferenza appunto in maniera efficiente e derivano esse stesse le logiche descrittive dalle reti semantiche di cui parleremo più diffusamente in questa unità didattica mentre non accenneremo al formalismo dei frames perché di questo formalismo abbiamo penso gli informatici abbiamo tutti quanti in qualche maniera un'idea perché il formalismo dei frames è stato precursore del concetto di object oriented programming in pratica Marvin Mischi che non credeva molto nell'approccio logico dell'intelligenza artificiale perché aveva in mente varie obiezioni una delle quali era il fatto che abbiamo accennato in un'unità didattica precedente che gli esseri umani a volte sanno come risolvere un problema proceduralmente ma non sanno come rappresentarlo e quindi nei frames veniva incorporata anche la conoscenza procedurale che nell'oggetto ambiente problemi chiamiamo metodi beh insomma voglio dire i frames non ne parliamo perché non abbiamo tempo e perché tutto sommato ne possiamo avere una qualche intuizione se pensiamo al concetto di programmazione orientata agli oggetti le classi nei frames sono sostanzialmente corrispondono a quelle che consideriamo oggi classi nella programmazione orientata agli oggetti dunque partiamo dalle reti semantiche le reti semantiche sono sostanzialmente una semplificazione di quello che Charles Pierce nel 909 chiamava le existential graphs per capire cosa è una reti semantica ovviamente facciamo riferimento a un linguaggio e il linguaggio sostanzialmente è costituito da grafi è un linguaggio grafico dove i nodi rappresentano oggetti o categorie di oggetti e gli archi etichettati fra i nodi possono rappresentare o la relazione fra i nodi oppure una appartenenza a relazioni fra i nodi in generale quindi come vedremo possono rappresentare o il fatto che una categoria è sussunta da un'altra o il fatto che un oggetto appartiene a una categoria saranno graficamente semplicemente rappresentati in maniera diversa il concetto importante che vorrei dare qui è che la semantica delle reti semantiche non è altro che un sotto insieme della semantica di logge e primordine nel senso che non c'è una rete semantica che non possa essere rappresentata in logge e primordine quindi in logge e primordine in qualche modo è un formalismo che è più potente dal punto di vista rappresentazionale delle reti semantiche le reti semantiche però hanno dei vantaggi innanzitutto nell'intuttività per ovviamente porzioni piccole o visibili in qualche maniera all'interno di un foglio di carta, di uno schermo di computer di una ontologia ma anche hanno una efficienza inferenziale cioè come meccanismo di inferenza perché come vedremo poi in logge descrittive si limitano a fare dell'inferenza solo di un certo tipo e quindi sostanzialmente questo è già un esempio che state vedendo di una rete semantica che potrebbe rappresentare una porzione di un'ontologia quindi abbiamo qui alcune categorie che sono rappresentate dai nodi a fondo bianco animale, mammifero, cane, bassotto sono tutte categorie quindi mammiferi sono categorie di oggetti mentre invece qui abbiamo Fido e Elsa che sono due oggetti e sono rappresentate nelle reti semantiche qui in questo modo rappresentate la reti semantica poi abbiamo due tipi di archi diversi un arco spesso un arco spesso rappresenta la sostunzione fra categorie quindi la categoria dei mammiferi è un sottoinsieme della categoria degli animali quella dei cani è un sottoinsieme della categoria dei mammiferi quella dei bassotti è un sottoinsieme della categoria dei cani gli umani sono una sottocategoria di mammiferi e così via mentre invece la freccia nera sottile rappresenta un attributo di una categoria espresso mediante un'altra categoria questo è un concetto un po' forte un po' delicato su cui i principianti gli ingegneri della conoscenza principianti a volte appunto si scontrano cerchiamo di capire perché un attributo rappresenta un attributo di una categoria espresso mediante un'altra categoria per esempio mammifero possiede un organo respiratorio vedete che l'arco è etichettato e l'organo respiratorio che il mammifero possiede appartiene dalla categoria del polmone questa è una categoria di oggetti i polmoni questo non è un particolare oggetto come fido ma era meglio se lo chiamavo insomma oggetto polmone quindi qui è un oggetto umano è una categoria di oggetti polmoni e quindi questo arco qui non è una relazione fra categorie ma esprime una proprietà degli oggetti che appartengono alla categoria da cui parte l'arco cioè quello di avere un organo respiratorio e la proprietà etichetta l'arco e semplicemente la destinazione dell'arco specifica che l'oggetto che incarna questa proprietà appartiene a quell'altra categoria è un concetto un po' articolato vedremo dopo di specificarlo meglio torniamo invece a concetti un po' più semplici l'arco grigio spesso rappresenta il concetto di instance of che in maniera più grave i principianti spesso confondono con lease a quando dicono per esempio che fido è un cane domestico in realtà fido non è un cane domestico è una istanza di un cane domestico viceversa possiamo dire che il cane domestico è un animale domestico quindi is he rappresenta la relazione fra le categorie di sostunzione instance of è invece la relazione di appartenenza ad una categoria e l'ultimo concetto rappresentato in una semantica è l'attributo individuale è un arco simile quindi etichettato simile a quello che abbiamo già visto fra le categorie molto più semplice da concepire perché rappresenta proprio una relazione fra due oggetti della rete semantica qui per esempio molto intuitivamente sta a significare che l'oggetto Elsa è il padrone dell'oggetto fido ora il primo concetto di questa unità didattica è che le reti semantiche possono essere rappresentate in logica del primo ordine quindi abbiamo già visto nella precedente unità didattica come rappresentare in logica del primo ordine le categorie abbiamo visto che le possiamo rappresentare o come predicati a un solo argomento o come reificandoli come oggetti la categoria stessa potremmo rappresentare come un oggetto in logica del primo ordine quindi tutti questi nodi questi ovali a fondo bianco potremmo rappresentare ciascuno come un predicato un ario come vedete fatto qui altrettanto semplice forse più semplice ancora è la rappresentazione degli oggetti perché gli oggetti in logica del primo ordine vengono rappresentati con delle costanti l'is-e è la relazione più importante di tutte della logica quella che sta alla base addirittura del sillogismo aristotelico l'abbiamo vista anche nella precedente unità didattica ogni is-e può essere rappresentata in questa maniera qualunque sia x oggetto che appartiene alla classe sussunta questo oggetto appartiene anche alla classe sussumente andiamo saltiamo il punto 4 andiamo al punto 5 e cioè l'instance of l'instance of ha una mappatura elementare in logica del primo ordine semplicemente basta specificare il nome della categoria come predicato applicato all'oggetto alla costante che rappresenta l'oggetto che appartiene che è un istanzovo di quella categoria ancora più banale è la relazione fra due oggetti rappresentata in logica del primo ordine ovviamente si prende la relazione che è definita dal nome dell'arco padrone e la si associa ai due oggetti che sono coinvolti in quella relazione se però andiamo da questo arco qui sottile grigio a quest'arco qui sottile nero torniamo al punto 4 e mettiamo in evidenza quanto è differente la relazione fra categorie rispetto alla relazione che magari ha lo stesso nome espressa però fra due oggetti di quelle categorie perché la relazione fra categorie espressa in logica del primo ordine suona così e cioè x è padrone di y cosa significa? che qualunque sia x se x appartiene alla categoria da cui parte l'arco allora esiste un oggetto tale per cui questo oggetto y sarà in oggetto sarà in una relazione che ha quel nome padrone con l'oggetto x qualunque sia l'oggetto x e qualunque sia z se z è il padrone di x allora vuol dire che z è un umano quindi effettivamente questa relazione fra categorie ha una rappresentazione in logica del primo ordine questa è la prima affermazione e quindi a questo punto tutta la rete semantica possiamo rappresentare in logica del primo ordine non è però una rappresentazione banale come tutte le altre ripeto questa significa che qualunque sia x se x è un addomare domestico allora esiste un padrone e un y che lì è padrone e qualunque sia il padrone di x questo è forzato a essere un umano cioè non potrebbe il padrone di un animale domestico essere un cane domestico non potrebbe il padrone di un animale domestico essere un polmone potrebbe essere un mammifero il padrone di un animale domestico ecco questo sarebbe un esempio di inferenza che a questo punto bisognerebbe tirar fuori dalla rete semantica chiaro che una volta che abbiamo espresso la rete semantica in logica del primo ordine possiamo utilizzare per esempio un tiro improver per fare inferenza per capire se un mammifero potrebbe essere padrone di un animale domestico se un oggetto che goda propria di essere un mammifero potrebbe essere padrone di un oggetto che goda propria di essere animale domestico o lo facciamo tramite oggi il primo ordine o lo facciamo tramite la rete semantica adesso vediamo come prima vediamo un altro modo per rappresentare la rete semantica più che corretta che ci è un pochino utile per fare meno confusione nella grafica abbiamo qui un'altra rete semantica dove semplicemente per esercizio proviamo a dare una rappresentazione in logica del primo ordine utilizzando non i predicati ma la forma reificata di rappresentazione della categoria quindi gli ovali che rappresentano le categorie quella a fondo bianco li rappresentiamo come delle costanti costanti che rappresentano la reificazione cioè la cosificazione della categoria costanti tanto quanto sono costanti invece quelli che rappresentano gli individui quindi si perde in questa rappresentazione si perde sintatticamente la differenza fra nodi a fondo bianco e nodi a fondo grigio abbastanza interessante prima di andare oltre e ci torneremo vedere che qui una di queste categorie è rappresentata da quella che in inglese viene chiamata non phrase cioè una frase nome persona femmina quindi si utilizza la congiunzione in un'unica costante di due costanti beh in realtà qui non abbiamo femmine ma ci potrebbe essere un'altra costante femmine questa è un non phrase ma ci torniamo più in là mentre normalmente anzi sicuramente le costanti che rappresentano gli oggetti non possono essere composte da più costanti la is a è rappresentata dal sotto insieme e il member of che sarebbe l'istance of l'istance of è rappresentata dal membership l'attributo individuale a questo punto è definito da un predicato esattamente come nel caso del precedente mentre invece il punto 4 che è l'attributo fra istanze delle categorie quindi non fra le categorie ricordiamo per esempio qui il fatto c'è che le persone hanno una madre e il fatto che le persone hanno una madre è rappresentato da un predicato con due argomenti che ha questo significato qualunque sia x se x appartiene alla categoria delle persone allora qualunque sia y x ha una madre y e questo y appartiene alla categoria delle persone femmine oppure vediamo qui quest'altro quest'altro arco etichettato legs che parte da persone così come partiva as mother ma va a finire non in una categoria ma va a finire in un oggetto l'oggetto 2 qui è come se anche qui in questo 1 dovevo metterci un no non l'abbiamo messo perché è un concetto però è un oggetto dovete pensare che questo 2 qui quest'uno qui è come se fosse un oggetto e anche quest'altro qui che parte da una categoria va a finire un oggetto che non avevamo un esempio del genere un caso del genere non c'era nell'esempio precedente lo possiamo rappresentare così le gambe di x sono 2 che significa che qualunque sia x che appartiene a categoria persona a questo x viene associato il numero 2 come numero delle gambe vale a dire che le persone hanno 2 gambe attenzione vedete qui nella grafica anche se non è rappresentato qui introdotto in oggi primo ordine in questo esempio che john è un individuo che anche lui ha un arco legs però l'arco legs lo porta a un valore 1 ma non è tanto questo quello che voglio far vedere ma vedete che il legs non è stato cerchiato perché questa qui è una relazione fra due oggetti del dominio mentre questa è una relazione fra una categoria e un oggetto del dominio quest'altra è smatter è una relazione fra due categorie però va interpretato nel senso in cui ho riportato qui la traduzione in logica del primo ordine ora quali sono le inferenze che si possono fare con reti semantiche beh l'inferenza più importante è quella che accennavo prima e cioè l'appartenenza di un oggetto a una certa categoria ovvio che se ci chiediamo se Mary appartiene alla categoria delle persone femmine e qui c'è un arco diretto è evidente però ci possiamo chiedere Mary quante gambe ha allora per capire in una rete semantica Mary dobbiamo partire da Mary dal nodo Mary risalire alla categoria di cui fa parte o alle categorie di cui dovesse far parte e vedere se c'è un arco che da quella categoria che è etichettato con il numero di gambe non è questo il caso allora si deve risalire a una categoria di cui quella intermedia è quella di cui quella intermedia è una sussunta in questo caso la categoria delle persone a questo punto risaliamo la categoria delle persone e vediamo che effettivamente c'è un arco etichettato legs che porta a due quindi a questo punto l'inferenza è terminata sappiamo che Mary a questo punto ha due gambe la ricerca quindi di la ricerca che abbiamo fatto è una ricerca che mirava a capire quante fossero le gambe quindi era un'inferenza circa una proprietà di cui poteva godere Mary l'abbiamo fatta semplicemente facendo una ricerca su grafo una ricerca che in fondo abbiamo visto che la deduzione comunque qualunque forma di inferenza è una ricerca su grafo però nel caso delle reti semantiche questo grafo è un grafo relativamente semplice rispetto ai grafi che si potrebbero fare per fare una qualunque forma di inferenza con un formalismo basato su logica e primo ordine però possiamo dire che abbiamo dei problemi dobbiamo stare attenti al caso per esempio di ereditarietà multipla ho qui fatto un esempio introducendo rispetto all'esempio di poco fa un altro nodo che rappresenta molto probabilmente un cane dal nome che ho dato quindi questo cane che si chiama Bau e l'ingegnere che sta lavorando a questa rete semantica ha associato con un instance of Bau a cane e poi visto che c'era non soddisfatto ha messo anche un arco instance of che da Bau va a animale domestico perché gli pareva perché gli pareva importante specificare che Bau oltre ad essere un cane era anche un animale domestico perché l'ha fatto? perché non c'è nessun nessun arco a lui noto nella semantica che dava per scontato che i cani fossero animali domestici questo perché nell'ontologia da qualche altra parte qualcuno avrebbe definito il cane domestico come appartenente a due classi che erano la classe del cane e la classe animale domestico quindi qui in questa ontologia si suppone che ci sia un cane che non sia che esistano cani che non sono animali domestici quindi questo più che categoria dei cani dovrebbe essere la categoria dei canidi di cui potrebbero far parte anche per esempio i lupi o gli sciacalli dunque qual è il problema? il problema è che se andiamo a chiederci le proprietà di Bau adesso qui in realtà nella rete semantica abbiamo un esempio non è sufficiente complessa per poter porre quelle domande che sono qui qui sotto però si intuisce il senso della problematica perché se ci chiediamo se Bau vive in branco come i cani o no come gli animali domestici abbiamo dei problemi perché in quanto animale domestico non vive in branco vabbè in branco con altri animali insomma vive in un branco particolare il cui capobranco è il padrone di casa insomma vabbè siamo capiti mentre invece come canide potrebbe vivere in branco e quindi abbiamo un po' di problemi ma d'altronde i problemi ce li avevamo anche con Fido perché Fido era un oggetto della classe animale domestica cane domestico ma la classe cane domestico poteva appartenere appartiene sia alla classe dei cani che alla classe degli animali domestici quindi lo stesso problema ce l'abbiamo con Fido non era necessario introdurre Bau cioè se abbiamo studiato Java e abbiamo visto quando abbiamo visto che Java non ammette la ereditarietà multipla fra le classi e ci dovessimo essere chiesti perché e non l'avessimo potuto capire adesso lo stiamo capendo perché se una classe può ereditare da due classi diverse se un oggetto può appartenere a due classi diverse tutti e due i casi sono rappresentati in questo esempio a questo punto potrebbe essere ambigua la determinazione della proprietà di una o più proprietà di cui potrebbe godere quell'oggetto del dominio e chiaramente l'ambiguità non è amica della logica e quindi non dovremmo avere ereditarietà multipla uno dei meccanismi importanti del ragionamento di senso comune è il cosiddetto ragionamento per default che la logica del primo ordine non ci consente ma che invece la rete semantica consente che cosa significa il ragionamento per default il ragionamento per default significa ragionare in assenza di evidenza contraria se ci chiediamo quante sono le gambe di Mary che abbiamo visto con il meccanismo inferenziale della semantica arriviamo a due ma se ci chiediamo quante sono le gambe di John siccome la prima operazione che si fa è andare a vedere se c'è un arco che è etichettato all legs che parte da John stesso e c'è effettivamente va uno possiamo desumere che John ha una gamba sola anche se effettivamente se noi ritrattassimo per dirla alla prologa questa conclusione a cui siamo arrivati potremmo arrivare a un'altra conclusione cioè che John ha due gambe ma le reti semantiche implementano una forma molto primitiva però efficace di ragionamento per default perché la prima soluzione al problema che viene posto alla semantica che viene restituita è considerata la soluzione effettiva e quindi sostanzialmente se riusciamo ad avvicinare il più possibile all'arco al nodo che rappresenta l'oggetto le specifiche di proprietà che sono eccezionali rispetto alla categoria o alle categorie di cui lui fa parte implementiamo una forma di ragionamento con eccezioni che hanno un ragionamento per eccezioni ecco tutto questo lo possiamo rappresentare in prolog e qui vi propongo la traduzione in prolog di una rete semantica semplicemente l'igrafo lo rappresentiamo come un database prolog quindi ogni is hey lo possiamo rappresentare come un predicato a due argomenti e poi gli archi etichettati in corrispondenza degli archi etichettati a secondo se definiamo un predicato sempre a due argomenti e notate questi due argomenti ma fra un po' ci ritorneremo dopodiché il meccanismo inferenziale che abbiamo appena descritto quello che parte dal basso verso l'alto lo possiamo implementare in un predicato prolog fatto di due di due clausole una come nutre giovanni e non sappiamo giovanni come nutre i figli parte il gol e si cerchi innanzitutto se c'è un fatto lanciando questo allo suoi prolog altrimenti dovremmo mettere col fatto viene lanciato lo suoi prolog consente di far questo un gol come nutre giovanni ma come nutre giovanni non matcha con mammifero quindi questo fallisce si va sotto si utilizza l'univ come aveva fatto in una unità didattica di modulo didattico precedente andiamo a scomporre come nutre giovanni in come nutre giovanni ed x poi andiamo a vedere se c'è una categoria che è una categoria a cui appartiene arg1 arg1 sarebbe giovanni in questa scomposizione e si trova nel database che effettivamente giovanni appartiene alla categoria di maschi e si ricostruisce a questo punto che il predicato che è come nutre maschi x come nutre maschi x maschio x non c'è nel database allora si scompone di nuovo come nutre maschio x con l'univ si va a vedere se c'è una super categoria di maschio e la super categoria di maschio c'è è persona e a questo punto il termine diventa come nutre persona x come nutre persona x non c'è però si scompone di nuovo persona è sotto categoria di mammifero e quindi il termine diventa come nutre mammifero x questa volta come nutre mammifero x ha successo mammifero all'atta e il programma prologue risponde x all'atta vedete che avremmo potuto si vabbè avremmo potuto implementare una forma di ragionamento per default se avessimo avuto un un'eccezione ok come nutre mammifero all'atta se per esempio come nutre giovanni biberon avrebbe scritto avrebbe subito restituito come nutre giovanni giovanni nutre con biberon quindi avrebbe implementato questo programma prologue una forma di ragionamento per default bene andiamo verso non dico una conclusione ma insomma tiriamo adesso fuori un confronto circa le potenzialità delle reti semantiche rispetto all'oggi del primo ordine perché effettivamente le reti semantiche a parte il linguaggio grafico è un linguaggio intuitivo ma chiaramente a finestre perché se lo volessimo utilizzare se lo utilizziamo per scopi importanti come si può fare i grafi sono grafi enormi quindi l'intuitività quando il grafo diventa enorme della grafica viene meno però il meccanismo inferenziale che abbiamo appena visto in prologue è effettivamente un meccanismo inferenziale efficiente e allora qualcuno potrebbe pensare che le reti semantiche siano un formalismo da chiaramente preferire la logica del primo ordine per fare ragionamenti vero ma in realtà ci sono dei limiti sono da preferire però la logica del primo ordine è molto più potente in termini di rappresentazione di concetti quindi è in grado di rappresentare conoscenze che non si possono rappresentare con le reti semantiche perché innanzitutto le reti semantiche non hanno questo è il concetto più importante la negazione se io volessi esprimere il concetto che nessuno può essere madre di se stesso in logica del primo ordine lo posso esprimere con le reti semantiche non lo posso esprimere non posso esprimere concetti che se uno è un padre di uno non può essere una madre oppure se uno è maschio non può essere una madre perché il not non lo posso esprimere due non posso esprimere con le reti semantiche la disgiunzione se io per esempio ciò che non so se una persona è maschio o femmina ma so che è una persona io questo lo posso scrivere in logica primordine rappresentare dicendo che x o è una femmina o è un maschio non posso invece associare a una reti semantica un nodo io potrei associare un nodo a entrambe le categorie ma questo significerebbe che quell'oggetto in questione sia maschio che femmina ma non posso esprimere il concetto che o è maschio o è femmina ovvio che questi due limiti da soli fanno capire che c'è un trade off fra efficienza inferenziale e capacità di rappresentazione dei concetti maggiore la possibilità di rappresentare i concetti minore è l'efficienza inferenziale e l'efficienza del ragionamento e viceversa ma non è finita la rete semantica non può neanche rappresentare la quantificazione esistenziale cioè se io so che esiste una madre di x e non so chi sia posso dire esiste un y che è madre di x in 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 una rete semantica non è che posso introdurre un nodo grigio chiamandolo y perché se lo chiamo y vuol dire che y è il nome di quel nodo non è un'incognita e non abbiamo neanche simboli di funzioni innestati che forse vi ricordate se non ricordo neanche se l'ho detto all'inizio di questo corso che sono le funzioni innestate alla base della semidecidibilità dialogica del primo ordine inoltre un'ultima limitazione delle semantiche forse l'avrete notata è che le proprietà le relazioni di cui che sono coinvolte le semantiche sono tutte relazioni binarie e quindi se una avesse una relazione a più argomenti per esempio se c'è un volo che questo è un esempio preso dal dal testo di Russell and Norwich se c'è un volo che va da New York a Nova Delhi che ha preso ieri questo signore io nella semantica non lo posso fare come non lo posso fare come non lo posso rappresentare direttamente questo concetto a meno che non concepisco una categoria di a parte eventi volo e dico che c'è un oggetto che appartiene a questa categoria che questo oggetto qui ha un agente che è quello che prende quel volo un aeroporto di origine un aeroporto di destinazione e un momento temporale in cui è avvenuto quell'evento però sì io potrei fare un meccanismo di questo genere e quindi concepire una categoria di eventi e concepire un oggetto che appartiene a questa categoria e concepire il fatto che questo oggetto è in relazione binaria con una serie di altri oggetti che sarebbero quelli che hanno un ruolo particolare all'interno della relazione più che binaria da cui stiamo cercando di implementare ma questa reificazione che stiamo facendo in pratica la reificazione della relazione consente di rappresentare la formula in questione cioè la relazione a più argomenti come però una forma atomica ground senza simboli di funzione però questo fa sì che a questo punto devo creare una vasta ontologia di concetti reificati cioè io devo avrò sicuramente qui mentre questa qui era un particolare oggetto io devo costruire qui una categoria di eventi che comprende un numero molto grande di componenti di eventi quindi questo è un po' il problema cioè il problema delle semantiche è che hanno una grande limitazione di capacità di rappresentazionale rispetto alla logica del primo ordine per contro hanno rispetto a quelle che sono le inferenze per cui loro sono state pensate cioè inferire le proprietà di un oggetto o se quell'oggetto appartiene a una categoria o se una certa categoria è sotto insieme di un'altra categoria per quello sono molto efficienti bene recentemente negli ultimi anni soprattutto sulla spinta del semantic web da una quindicina di anni a questa parte si sono sviluppate le logiche descrittive le logiche descrittive sono sostanzialmente un'evoluzione delle reti semantiche che servono per facilitare la definizione stessa delle categorie e in qualche maniera sfruttano proprio una componente adesso vediamo del sfruttano proprio il nome stesso del predicato nel nome stesso del predicato rappresentano la struttura tassonomica del concetto che il predicato rappresenta e sono particolarmente adatte come le reti semantiche da cui derivano per fare inferenza di sostunzione che sarebbe se una categoria appartiene a un'altra o di classificazione che saprebbe se un oggetto appartiene a una certa categoria o no però soprattutto per il fatto che non c'è la negazione il simbolo di negazione abbiamo problemi di consistenza cioè è possibile con elogi descrittive rappresentare l'ontologia della musica moderna consentendo dentro che un brano musicale possa appartenere a categorie che la gente considera complementari e quindi il concetto stesso di scomposizione esaustiva di partizione non può essere rappresentato perché non c'è la possibilità di poter rappresentare il concetto di negazione se si introduce il concetto di negazione viene meno l'efficienza tipicamente delle logiche descrittive quindi per quanto riguarda la trattabilità dell'inferenza il test di sussunzione che è l'inferenza tipica viene effettivamente completato in tempo polinomiale e quindi questo è un vantaggio però innanzitutto non è l'unica inferenza a cui siamo interessati in generale nella rappresentazione dell'intelligenza artificiale ma anche limitandoci a quello o accettiamo che alcuni problemi non possono essere rappresentati come appunto quelli che coinvolgono l'incertezza l'or oppure dobbiamo per forza ammettere che per esempio come nel caso delle relazioni a più argomenti che la dimensione della rete esploda esponenzialmente e quindi a questo punto sarà polinomiale il grado di complessità dell'inferenza però abbiamo una rete enorme che diventa esponenzialmente grande e quindi ritorniamo ad avere i problemi esattamente adesso io prendo spunto da un collega che è giusto per il senso di che cosa sia una una logica descrittiva ma non non centriamo dentro in questa unità didattica anche in questo corso non centriamo invito comunque le persone interessate a fare un approfondimento diciamo che dicevo che la rete semantica nelle logiche descrittive è deriva dalla struttura stessa del predicato cioè mentre nelle logiche del primo ordine le categorie i simboli di predicato che rappresentano le categorie hanno dei nomi atomici nel senso che non possono essere spezzati e corrispondono ai nomi in inglese come per esempio persona città l'intuizione dietro le logiche descrittive sta proprio dietro a quelle non phrases quei nomi frase che si usa spesso nell'inglese come per esempio persona sposata o città canadese o animale con quattro gambe è chiaro che quale sia la struttura della categoria degli oggetti che appartengono alla categoria animali con quattro gambe è abbastanza chiara dal nome stesso allora praticamente quello che si vuol fare che si fa con le logiche descrittive è concepire dei predicati non atomici e non voglio andare nello specifico perché voglio andare a se si ha utilizzato il su cui si basa una logica descrittiva per esempio se io voglio rappresentare la categoria delle aziende con almeno sette direttori i cui manager sono tutte donne con un dottorato di ricerca e il cui salario minimo è 24 dollari l'ora bene tutto questo è un concetto come il bipede che abbiamo visto nella precedente unità didattica che se io lo voglio esprimere il concetto per esempio di almeno almeno sette è un concetto tanto quanto quello del bipede se io lo volessi esprimere in logica del primo ordine non è che non lo posso fare lo posso fare ma mi costa parecchio io invece qui con la logica descrittiva me la cavo con un nome di predicato per dirla così anche se non è che qui non ci sarebbe neanche il concetto di predicato che nel nome stesso come vedete mappa la struttura della categoria che questo nome vuole rappresentare perché è una categoria il nome della categoria è costituito da un end in cui il primo elemento è azienda e poi un altro elemento vedete qui sulla seconda riga exist sette due punti director che esprime abbastanza intuitivamente il fatto che esistono almeno sette direttori in cui tutti i manager godono di questo appartengono a questa sottocategoria la sottocategoria è costituita da donne che hanno un dottorato di ricerca mediante questo specificatore Fils che è tipico della logica discrittiva e tale per cui in cui i membri di questa azienda cioè le persone che appartengono all'azienda hanno un salario minimo di 24 dollari l'ora in pratica quello in conclusione senza capire quali sono i concetti senza parlare di logiche discrittive quello che ho voluto semplicemente far vedere è che il nome stesso della categoria nella struttura presenta quelle che sono le proprietà degli oggetti che appartengono a quella categoria e quindi se vogliamo a questo punto fare dell'inferenza per capire se questa categoria appartiene alla categoria delle aziende beh per il semplice fatto che qui compaia il termine azienda come primo elemento dell'enda noi sappiamo automaticamente che questo e questa chiunque qualunque oggetto che appartiene a questa categoria appartiene anche alla categoria delle aziende quindi effettivamente è molto semplice fare il ragionamento di sostunzione così come anche sarà semplice fare ragionamenti di di consistenza ma di classificazione bene con questo termina questa unità didattica e termina anche tutto il modulo didattico dedicato alla rappresentazione della conoscenza e più in generale al concetto di ontologie e più in generale